Il 7 e l'8 il 9 giugno il cielo di Campli sarà illuminato da saperi e sapori. La splendida piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un magnifico ristorante all'aperto con menù di alta cucina a soli 20 euro. Degustazioni gratuite di vino cotto e tozzetti offerto lungo le stradine di un paese allestito a festa grazie alle mostre di scultori, pittori e antiquari. I biglietti per la terza rassegna gastronomica di Campli potranno essere acquistati attraverso il sito Campli Domani o a Teramo al Caffè dei Poeti e all'Enoteca Centrale.